e la coscienza. Giovedì alle 20 e 30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Buonasera a tutti, ben arrivati all'ultima trasmissione del 2018 di It From Bit, trasmissione organizzata in collaborazione con Spazio Tesla sulle frequenze di Radio Sound Spazio Tesla. Abbiamo qui con noi il presidente di Spazio Tesla, Alberto Negri e Amanda Castello che introdurrà e condurrà la trasmissione per quanto riguarda appunto il nostro ospite che è in diretta dalla Francia. Quindi Alberto, prego, ricordiamo i numeri. Allora sapete che siamo in diretta e quindi in diretta potete anche contattarci, potete mandarci domande, messaggi sul WhatsApp, ricordo il numero 3337575246, ci potete seguire anche sulla pagina Facebook, ci potete anche sentire appunto in FM in quanto emittente radiofonica, potete seguirci in streaming su piacenza24.com e scaricare anche sul vostro smartphone l'app gratuita Radio Sound 95. Allora, prima, vorrei dire per a tutti i nostri spazionati in Francia, al Canada e a tutti dove si trovano dei paesi di lingue francese che abbiamo il piacere questo giorno di dare la benvenuta a questa emission che sarà conduita per me, Amanda Castello, la secrataire generale di l'associazione Spazio Tesla, la ora che qui è qui a la mia droite e Alberto, che è il presidente di Spazio Tesla. E noi abbiamo questo l'attività di aver in diretta, dopo pari, Valérie Soguin. Quindi noi abbiamo solo comunicato, ma avete già su Facebook, i numeri, i numeri di WhatsApp, i numeri di francese o dell'estrangeri, voi deve fare 0039 333 75 75 246. Voilà. E voi potete naturalmente noi suivere su la page en direct di Facebook, su la page di Radio Sound, su la page di Spazio Tesla, su la page Amanda Soleil Castello e su la page di Art Association Cure Palliative. Tutulemona. Voilà, il mondo entiere. Introduciamo allora l'agraditissima ospite francese e devo dire che con la Francia, grazie d'Amanda abbiamo un ritorno incredibile di immagine. Allora, grazie a Amanda di Alberto, nous avons maintenant, nous avons ouvert beaucoup de portes pour travailler avec la France. Et donc, nous allons maintenant ouvrir les danses et accueillir notre hôte importante ce soir, qui est Valérie Soguin. Valérie, il tema della serata l'abbiamo tenuto in sospeso fino adesso, ma è un tema molto, molto forte. Il tema di questa soirée è un tema quand même très, très puissant e très important che nous avons gardé pour, maintenant, pour cet instant important. Il titolo, E se la morte non esistesse? E se la mort n'existe pas? C'est la grande question. Dov'è l'esperienza della vita dopo la morte? Où è l'experienza della vita après la mort? Le domande e la ricerca, c'è la poste Valérie Soguin, già manager di importanti gruppi industriali anglosassoni. Donc, toutes ces questions et les recherches, eh bien, Valérie Soguin, qui était, jusqu'à présent, qui était manager du groupe industriel anglo-saxon important, et qui est aujourd'hui une consulente de direction et qui est la cofondatrice de l'Ecole du Sens, eh bien, elle est en plus écrivaine et filmmaker, eh bien, elle s'est posée toutes ces questions. Oggi consulente, Valérie, manageriale et cofondatrice d'Ecole du Sens, oltre ad essere una scrittrice et una filmmaker. Parliamo, però, di come è arrivata Valérie a intraprendere questa strada. Alors, nous allons parler d'abord de quel a été la raison, le motif à l'origine de ce changement de route de la part de Valérie, qu'est-ce qui l'a poussé à s'intéresser à ces questions? Il dramma familiare della perdita di suo padre la porta a scrivere un libro divenuto famoso in Francia. Alors, Valérie a vécu un moment très, très difficile, puisqu'elle a perdu son père, et au moment où elle a perdu son père, eh bien, cela, les expériences qu'elle a vécu, dont elle va nous parler ce soir, l'ont conduite à écrire un livre qui est maintenant important en France. Il titolo di questo libro è un titolo molto importante, adesso con Amanda la facciamo vedere, è «Tres giorni e mezzo dopo la morte di mio padre». Et voilà, nous vous présentons donc le livre de Valérie, qui est actuellement publié en France pour le moment, en français, et qui s'appelle, qui a pour titre, «Les trois jours et demi après la mort de mon père». Con questo libro, Valérie vive une expérience inquietante, atipica, et, invece d'être devastata dal dolore, si sente meravigliosamente tranquille, comme si son père fosse accanto à elle. L'expérience très curieuse que va vivre Valérie à ce moment-là, qui va la laisser très, très surprise, c'est qu'au lieu d'être détruite par la douleur, comme elle s'attendait à l'être, elle va, au contraire, se sentir parfaitement calme, sereine, tranquille, et elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, et c'est ça qui va la pousser à écrire ce livre. Et elle va recevoir une quantité de messages de la part de son père, et ce sont des messages d'amour, des messages pour ses proches, qu'elle va ensuite transmettre pendant donc ces trois jours et demi, et puis après, petit à petit, ce contact va s'étioler et va s'arrêter. Et Valérie va commencer à faire une recherche extrêmement importante, un peu partout, et elle va se rendre compte que dans le livre «Tibétain des morts», eh bien, on parle specificement d'un voyage que ferait l'âme et qui durerait, après donc l'E.D.C., durerait exactement trois jours et demi, et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Donc, c'est pourquoi à ce moment-là, Valérie va vraiment pousser plus loin son enquête, et elle va arriver, disons, à ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières de la mort, elle va chercher au niveau de ce qu'on appelle aussi les NDA ou les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort provisoire ou de mort imminente. Elle va rencontrer donc des personnes qui ont vécu des EMI ou des NDA, ou bien des personnes également qui sont de différentes confessions religieuses ou philosophiques. Et les confessions religieuses sont quelles cristiennes, quelles égistiennes, quelles égistiennes, buddhistes, dans les razes et cultes diverses, quelles des Masais. Donc, elle va rencontrer des personnes qui sont aussi bien chrétiennes, égyptiennes, de culture chrétienne, égyptienne, buddhistes ou Masais. Et elle va se rendre compte que, donc, ce qu'elle a vécu, cela a un nom, un nom scientifique, que l'on pourrait traduire en italien, donc en traduisant comme ça, une expérience subjective de contact avec une personne décédée. Et en français, le sigle, c'est VSCD. Voilà, pour une courte présentation de Valérie. Donc, avant de donner la parole à Valérie, pour arriver peut-être à rentrer dans le vif du sujet, nous avions pensé, avec Valérie et avec nos amis ici, de vous présenter la bande annonce de son film, qui a pour titre « Et si la mort n'existe pas ». Donc, nous sommes restés d'accord avec Valérie que pour pouvoir vous entrer tous dans le thème dont nous parlons cette soirée, peut-être que l'idéal serait de passer le trailer du film, le premier film que l'a fait, et qui s'appelle « Et si la mort n'existait ? ». Vediamolo. « Depuis toujours, la grande question de l'être humain a été de savoir s'il existe une vie après la mort. » « Mais où en est la science sur cette question ? » « Su domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme après notre mort. Alors, sur quelles preuves, sur quelles études s'appuie-t-il ? » « Sommaire. » « Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. » « La mort, c'est une frontière difficile pour la science. » « Ils ont étudié les EMI, expérience de mort imminente. » « À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. » « Un sujet qui fascine. » « Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. » « Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec nous. » « On entend souvent dire que l'âme réservait 21 grammes. » « Les physiciens s'interrogent également. » « Il existe par définition des mondialistes. » « Einstein a écrit, je crois, en une vie après la mort, parce que l'énergie ne peut pas mourir. » « Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. » « Les esprits décédés ne sont pas localisés dans les cimetières. » « Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincue que je me suis trompée longtemps. » « Quels sont les résultats de ces études ? » « La conscience est-elle indépendante de notre cerveau ? » « Notre conscience peut-elle continuer à exister après la mort ? » « Et si la mort n'existe pas ? » « Adesso viene la versione italiana. » « La grande domanda che si pone l'essere umano è se esiste una vita dopo la morte. A che punto è la scienza su questo argomento? Questo ambito è sempre stato riservato alle religioni, ma oggi, ed è questa la novità, numerosi scienziati sono convinti che continuiamo a vivere sotto un'altra forma dopo la nostra morte. Quali sono le loro prove? Su che cosa si appoggiano per queste affermazioni? È quello che vedremo. Siamo partiti alla ricerca di questi scienziati. La morte è una frontiera difficile per la scienza. Hanno studiato le NDE, esperienze di morte provvisorie. In questo momento il cervello smette di funzionare, e quindi è molto curioso che delle persone possano riferire qualcosa dopo quel momento. Un tema che affascina. Abbiamo anche studiato le capacità di alcune persone di uscire dal loro corpo. Ho perfettamente la sensazione di essere me stesso, ma non con il mio corpo. Si sente spesso dire che l'anima ha un peso di 21 grammi. Anche i fisici si interrogano. Esistono, per definizione, dei mondi invisibili. Einstein ha scritto Io credo in una vita dopo la morte perché l'energia non può morire. Hanno anche esaminato dei medium che dicono di comunicare con i difunti. Gli spiriti delle persone decedute non sono localizzate dentro i cimiteri. Più studio tutto questo, più sono convinto che mi sono sbagliato per molto tempo. Quali sono i risultati di tutti questi studi? La coscienza è indipendente dal nostro cervello? La nostra coscienza può continuare ad esistere anche dopo la morte? E se la morte non esistesse? Non esistesse. Ok, via. Bene. Così avete visto? Abbiamo fatto subito un bel ingresso. Vi auguro solo. Allora, quella è la notizia è la notizia? Valdi, C'è un po' di attendedo il suo film in italiano? c'est un po' particolier parce que là je ne vois pas les images, j'entendais que ta voix et donc c'est, moi je faisais tous les trois mais j'ai pas vu le film en fait en même temps c'est un po' particolier, mais je suis très heureuse, je suis très heureuse de le voir en italien parce que j'espère qu'il sera attraverso en italien voilà, dice sono molto, le chiedevo ma che impressione ti fa di vedere per la prima volta il tuo trailer in italiano e mi dice vabbè con la tecnica io non vedevo il film mio però sentivo in italiano mi fa un pochettino strano però sono anche molto contenta perché spero e questo è un progetto che noi abbiamo tutti insieme che riusciremo poi a tradurre il film completo in italiano e passarlo in Italia vedo Laura che sta smanettando con il... c'è già una domanda però non so se vuole che Valérie annunci qualcosa a lei prima, non so c'è una domanda, parliamo di film? beh adesso penso che poi potremmo forse... ok, la teniamo in serbo per dopo la teniamo per dopo, ok, già l'ambiente è abbastanza caldo allora, io direi che forse possiamo chiedere quindi a Valérie che cosa è successo realmente che l'ha portato a fare questo film assolutamente allora, la prima domanda che vorrei te posare Valérie, ce serait, la prima domanda che ti parla lentamente ensuite e chiaramente e che l'entendere bene il son per che io puissi traduire quindi la prima domanda è che ci ha spostato, on l'ha detto rapidamente in l'introduzione che ci ha spostato a fare questo film? che sono le domanda, on ha entendu parlare, ovviamente, della morte di tuo padre ma cosa è successo, concrètement? allora, dopo aver scritto questo libro che voi avete visto ho voluto questionare la scienza per sapere a che punto era la scienza dopo la morte io volevo realmente studiare a 360 gradi su questo tema e soprattutto farlo conoscere poi al pubblico e per me è un'eccellente notizia che esista un al di là perché questo, grazie a quello che mi ha comunicato mio padre oggi io ne ho la convinzione personale io credo che anche ciò che tu dici nel tuo libro che è molto interessante è che tu dici che tu sei di una famiglia che non aveva du tout di rapporto con la religione e che tu sei, se io comprendo bene, una famiglia di tipo atea penso che, da quello che ho letto dal libro di Valérie un elemento che mi sembra importante in quel debattito è che lei dice nel suo libro che lei è di una famiglia atea e che quindi non aveva nessuna familiarità con queste questioni e anche suo padre era così, no? vengo di una famiglia molto cartesiana che è molto rigida su questo e credo che è importante che il grande pubblico possa ascoltare queste testimonianze e d'ailleurs c'è un movimento scientifico che si chiama iniziai par il neurologo Mario Boregar che ha redigato un workshop per un workshop post-materialista allora, aspetta, aspetta, aspetta attenta, attenta, ti va a trovare là keep quiet girl, keep quiet quello che è veramente molto interessante è che esiste nel mondo della scienza e in particolare nel mondo delle neuroscienze e in particolare un lavoro fatto iniziato dal dottor Mario Boregar canadese che lavora con le università americane che ha creato, ha fatto partire un movimento insieme ad altri specialisti nella neuroscienza di un manifesto post-materialista quindi un manifesto di scienziati, di fisici che quindi si interrogano e che hanno stillato questo manifesto Allora, credo che sia estremamente importante di portare questa informazione al grande pubblico perché la gente spesso dice non ci sono prove della vita dopo la morte e spesso la gente pensa che questo è un terreno riservato alle religioni e non è così E oggi abbiamo diversi fenomeni che si manifestano e che possiamo anche repertoriare, possiamo catalogare e che ci permettono, che ci confermano nella nostra convinzione che esiste una vita dopo la morte E questi fenomeni sono studiati scientificamente con dei parametri scientifici Allora, l'argomento L'argomento dei materialisti o di quelli che difendono questa visione è di dire quando una persona vive un'esperienza di morte imminente o di morte provvisoria quelli famosi NDE quelli che difendono questa visione materialista dicono però non è realmente morto perché è tornato in vita quindi non era realmente una vera morte E allora che oggi la mediunità è studiata scientifichamente con dei protocolli scientifici allora c'è dommage anche se non è in Europa c'è uniquement aux Etats-Unis ma in Europa c'è comunque un po' di chercheure che l'ho fatto D'ailleurs Didier Van Kowler si parla on pourra poter passare l'exprime Allora quello che si chiama la medianità quindi il lavoro dei medium spesso in Europa è stato un pochettino banalizzato come se fosse una cosa un po' folcloristica e poco seria invece da anni negli Stati Uniti si sta studiando questo fenomeno della medianità ora c'è una persona in Europa che ne ha parlato molto e adesso proveremo a far vedere un contributo avremo abbiamo un contributo video abbiamo adesso quindi un estratto del film di Valéry sui medium e abbiamo un intervisto con Didier Van Kowler che è uno scrittore conosciuto importante ed è qui anche alcuni libri suoi sono anche tradotti in italiano quindi vediamo questo estratto vediamo a quanto riguarda hanno verificato le capacità di alcuni medium lo scrittore Didier Van Kowler ce ne parla le prime persone che mi hanno spinto ad interessarmi al fenomeno della medianità sono degli scienziati in particolare il professore Rémy Chauvin professore universitario della Sorbona specialista mondiale di appi e formiche uno dei più grandi etologi francesi e tra l'altro uno dei più importanti studiosi di medium che nel quadro della prestigiosa Sorbona teneva un corso sulla verifica dei fenomeni medianici sperimentava inoltre riscontrando spesso grandi successi la capacità delle persone di entrare in comunicazione con i defunti o perlomeno di ricevere delle informazioni che solo i defunti potevano conoscere bene abbiamo visto un extrait di ton film e abbiamo capito che c'è una etica che dimostra che queste persone che hanno dei contatti sono delle persone che sono esperimentate controllate verificate a un liveo scientific sì c'è a dire in generale c'è un double aveugle c'è a dire che le medium ne rincompre la persona che viene consulter l'intermediaire questo tipo di verifica ci sono i parametri molto seri in modo che il medium non incontra mai non vede mai la persona che viene consultare per porre una domanda e il medium ne può a aucun momento lire dans le pensée della persona che viene consulter e non può essere telepatia perché il medium non è in contatto e non vede non c'è nessun contatto fatto tra quelle due persone che sono quindi sperimentate dai scienziati e per c'è anche che è in gratuito in france antichi e dell'infiniment petit si stanno studiando quello che non è visibile diciamo allora potremmo forse noi potremmo se tu vuoi fare un momento di riflessione della parte dei fisici allora potremmo 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 vedere quindi adesso quello dei fisici io poi avrò una domanda da fare la possiamo far prima la facciamo prima di far partire la domanda facciamo partire un attimo adesso allora posso interrompervi un secondo allora in FM ci interrompiamo un secondo per la pubblicità e il GR ma noi andiamo avanti su Facebook quindi continuiamo regolarmente se però in questo frangente non mandiamo contributi video facciamo soltanto la chiacchierata ok allora maintenant il y aura una petite interruption per la pubblicità e per qualche informazione sulla radio ma su Facebook noi continuiamo en direct quindi non avremo non mostrare tutto di suite il film per non che gli altri lo perdano ma noi continuiamo con le question le question la domanda la domanda è questa da quando Valérie ha intrapreso questa strada quindi ha scritto il libro dopo la sua esperienza e ha fatto il film è stata avvicinata da persone che hanno che dovevano elaborare il lutto e magari hanno cercato di avere un conforto una spiegazione anche in quello che lei ha scritto e ha poi anche benissimo interpretato in questo bellissimo film Alberto domanda se dopo che hai fatto questo libro e poi questo film ci sono persone che si sono approchate che ti hanno chiesto che hanno chiesto un contatto con te persone che sono in due e che attraverso questo bello film che hai realizzato che hanno trovato delle risposte e che hanno di avere altre risposte c'è che le persone che hanno contattato alla suite di questo film sì perché ci sono più di 2500 commenti che sono stati scritti da persone che hanno visto il film attualmente gratuito e poi ci sono arrivati tantissimi messaggi sulla pagina del film su facebook e soprattutto su perché quando ho avuto il contatto con mio padre c'è qualcosa che non conoscevano e per me c'è importante di far connex il fenomeno di contatto con un defun senza passare le medium quando io ho avuto questo contatto con mio padre io l'ho avuto direttamente spontaneamente senza passare con un medium e mi sembrava estremamente importante di poter far capire e conoscere alle persone che era possibile di avere un contatto con un defunto senza essere obbligato a chiedere l'aiuto o l'intermediazione di un medium questo molto bello e c'è molto bello questo demogne e le statistiche dic che donne a po' 25% della popolazione ha vécu un contact con un defunto c'è un quart della popolazione le statistiche danno che ci sono 25% della popolazione mondiale che dice aver avuto un contatto con un proprio defunto questo vuol dire un quarto della popolazione quindi è enorme come dato e di quelli che si sanno che sono stati che l'hanno ufficialmente riconosciuto e letto abbiamo anche delle domande possiamo fare qualche domanda noi abbiamo qualche question est-ce che apri on verrà bien se queste question sono a prende il y a delle question che sono arrivée alla radio in francese allora bonsoir je voudrais savoir ce che vous pensate del film Notre Demeure Notre Demeure Uno Solar questo film brasilien je l'ai chez moi je l'ai en dvd je le recommande io ce l'ho questo film in casa mia e lo raccomando a tutti è un film estremamente importante direi che le bien il a été fait pour vraiment les gens qui ne sont pas overt a ces sujets direi che mio film è un film che ho fatto per delle persone che non sono assolutamente al corrente di questa tematica alors une fois qu'ils ont vu le mien ils peuvent voir nos solar c'est peut-être une deuxième étape qui va un peu plus loin je penso che calma un pochettino e dà informazione poi dopo allora uno può adentrarsi in questo film un solar oppure notre demeure che è un excellent film che è un film fiction che non è un documentaire allora che il film di Valérie è un docu film altre domande abbiamo un abbiamo Carmine che ci chiede se le esperienze di premorte sono soltanto esperienze positiva oppure se c'è anche qualcosa di negativo e non solo se la morte non esiste viviamo in un'altra dimensione questa vita è in relazione al comportamento avuto diciamo nella nostra vita attuale allora un altro question allora se il monsier domande merci beaucoup io vorrei vous domande se le esperienze di mort provisoire sono solamente des expériences positives o s'il y en a de négatives également si la mort n'existe pas est-ce que nous vivons dans une autre dimension cette vie qui serait en relation avec notre comportement que nous avons eu dans cette vie actuelle raccolt 18% di esperienze di morte provvisoria negativa allora non è tanto per rispondere alla seconda parte della domanda di Carmine non è solo il fatto di essere stata una brutta persona durante la nostra vita attuale che influenza l'esperienza di NDS è positivo o negativo, quello che conta è lo spirito in cui si trova la persona al momento del passaggio, al momento della sua morte apprezzate che le esperienze che dice che abbiamo una revue di vita che viviamo una revue di vita con un giudizio personale e là effettivamente in funzione di nostro livello di conscienza avremmo dei plans energetici, dei plans vibratoires che corrispondi a nostro livello di conscienza allora naturalmente siamo ritornati in onda in FM 95.0 Radio Sound It from Bet Noi siamo revenuti di nuovo ora su le zone non siamo più solo su Facebook ma di nuovo su le zone della radio quindi Valérie è in train di expliquer che esiste anche delle esperienze di morte provvisore che sono che sono perdon che sono delle esperienze che ci sono anche delle esperienze di morte provvisore che possono essere negative che non dipende della vita bella o brutta della persona ma del momento delle condizioni quasi psicologiche in cui si trova il momento dell'eccesso quello che stava dicendo adesso Valérie è che tutte le persone che hanno vissuto una NDE o un EMI e che tornano e che raccontano dicono che passano per un tipo di una revisione iperveloce di tutta la propria vita e dove la persona quindi vive non soltanto quello che ha fatto quello che ha fatto fare quello che ha subito lei quello che ha fatto subire ad altri e tutto questo è in un tempo come se fosse un film che passa a tutta velocità e quindi chiaro che questo allora può dare una sensazione o positiva o negativa secondo come abbiamo vissuto la nostra vita parliamo di emozioni che affiorano un giudice che questo non esiste assolutamente è la propria coscienza della persona che vede in un modo diremmo quasi oggettivo quello che ha fatto quello che ha fatto vivere ad altri e vivendo anche le sensazioni che hanno ricevuto le altre è un esame con se stessi sostanzialmente è un esame con se stessi è un esame con se stessi anima ma sul passaggio sul momento preciso della morte al dopo al distacco attualmente non abbiamo ancora un trailer ci sarà a febbraio però le idee le avete chiare ci sta lavorando ok la tematica è affascinante affascinante c'è un'altra domanda no ma stiamo ricevendo diversi post su facebook abbiamo Carmelo che si complimenta noi stiamo entrando a ricevere una quantità di messaggi su facebook Carmelo che si felicita si appunto complimenta per l'interessante trasmissione ed è il fondatore dell'Italian Paranormal Research e il è ce monsieur è donc le fondatore dell'Italian Recherche su le Paranormal e chiede se poi magari può avere anche contatti e il demande s'il è possibile ensuite d'etablire un contact avec toi per magari poter appunto svolgere anche indagini perché loro hanno anche strumentazione perché hanno eux aussi des instruments importants technologie avancée e qu'il pourrait donc peut-être ça pourrait être interessant creare une collaboration si tu es d'accord bien sûr con piacere beh continuano arrivare domande anche in merito al film No Solar ma l'abbiamo già elaborata d'autres personnes qui posent question par rapport au film No Solar perché ce film a été traduit en italien donc il est très très connu si aussi tu avais qualche domande allora no una domanda che tra l'altro era emersa anche durante uno dei congressi che abbiamo ottenuto come spazio tese dove c'eri tu anche Amanda proprio in in collaborazione con dei medici c'erano due rianimatori e un psichiatra psicoterapeuta Era stata rilevata nella statistica che qui parliamo però attenzione di NDE quindi di esperienze di premorte era stata rilevata nella statistica che i recuperati i pazienti recuperati dal resto cardiaco dovuto da varie cause o comunque dal resto cardiaco rianimati ritornati in vita l'esperienza negativa era legata alla sfera neurologica cioè di una sofferenza neurologica allora lui lui dice che sulle esperienze sulle NDE sulle les OMI dice che dans le cadre di l'etude che hanno été fatti le statistiche disaient semblerait che rapporter che le esperienze che avevano vécu un OMI alla suite d'un arrêt cardiaco e che avevano été rianimati il semblait che le esperienze négative de 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 OMI était lié a un problema neurologico mentre invece i pazienti ripresi con rianimazione cardiopulmonare d'arresto cardiaco quindi da blocco elettrico in poche parole del cuore alors che le persone che avevano été ramené alla vie alla suite donc toujours d'un arrêt cardiaco ma grâce a un meccanisme de recuperation cardiopulmonare calmo polmonaire il semblait che le esperienze che avevano vécu c'est esperienze più rilassate étaient des esperienze più positive più tranquille più est-ce qu'il y y une differenza entre ces due modalités lei lo ha constatato nelle sue ricerche pu verifiez cela dans cette différence dans le cadre de tes recherches non la prima volte che sento questo le studi scientific sono fatti solo su arresti cardiaci quindi c'è una morte fisica un interruzione della vita perché c'è un arresto cardiaco un arresto poi neurologico però è seguito e il cervello smette di funzionare dopo che il cuore si è fermato sono le 15 secondo di cui parla il dottor Chabonier si la mia è una domanda più che dovuta dal fatto che l'arresto cardiaco dovuto principalmente da una sofferenza neurologica cerebrale quindi dal classico infarto cerebrale o emorragia cerebrale ripreso e invece questo è un lato quindi la sfera neurologica invece la sfera solo cardiaca dell'arresto cardiopulmonare è un po' sottile la cosa ecco io penso che poter l'an on va sortire un po' troppo del 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 medico perché la differenza tra par esempio un arré di due tipo di formi cardiaque o alla suite dell'arri neurologico e credo che l'on va rischare di spero un po' poter c'è meglio di il faudrait posare questa question al Dr. una domanda da porre al Dr. Charbonnier perché l'on va partire su delle question che sono più medico e dove non abbiamo qui le competenze per rispondere grazie abbiamo il contributo video possiamo adesso guardare il video la video dei fisici che dicono le fisici su set su se question de se mondes invisibili il y a une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure des accélèles particules des télescopes des microscopes etc mais les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est ce que le physicien d'air Bernard d'espagnan appelle le réel voilé et qui n'est pas mesurable directement par nos instruments de mesure donc il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente il a été démontré depuis la fin des années 90 que le vide contient de l'information et que à partir de ce moment là il existe par définition des mondes invisibles aujourd'hui les travaux des physiciens portent qui contient considérablement plus d'informations que notre simple réalité et ça peut passer par l'ajout de dimension à l'espace la mécanica quantistica dice que c'est una realtà apparente quella que vediamo con i nos sensi et que misuriamo con i nostri instrumenti de misura in particolare gli acceleratore de particelli i telescopi microscopi etc ma i dati fisici suggeriscono que c'est forse una realtà chiama il reale velato che non è misurabile direttamente con i nostri strumenti di misura quindi esiste una realtà ultima che è differente della realtà apparente è stato dimostrato già dalla fine degli anni 90 che il vuoto contiene dell'informazione e quindi da quel momento esistono per definizione dei mondi invisibili oggi i lavori dei fisici provano a capire qual è la struttura del vuoto perché contiene considerevolmente molte più informazioni rispetto alla nostra semplice realtà bene allora abbiamo adesso avuto l'opinione dei fisici su questo su questa ricerca che è in corso quindi la nostra fisica quantistica è quella che ci dà la risposta quindi c'è tutte le ricerche su la fisica quantica che può nous apporter le risponde che noi siamo entran di chercher è arrivata una domanda in merito al fatto che appunto Valérie ha detto che non c'è giudizio non si deve immaginare una morte in cui c'è qualcuno che viene a giudicare e c'è questo diciamo moviole in cui si vede tutta la vita che la persona ha trascorso con le emozioni che ha ricevuto d'altri e quelle che lei ha fatto provare ad altri ma c'è anche questo passaggio questa revue della propria existenza terrestre dove la persona voit au niveau de ses emozioni sia ce qu'elle ha ressenti ce qu'elle ha vécu che ce qu'elle ha fa ressentire ad d'autres persone quindi non è come guardarsi in uno specchio non è come un autogiudizio questo è che ce n'est una espèce di una façon di se regarder dans un miroir e ce che ce n'est un auto jugement de soi même que l'on fa c'est question c'est un jugement personnel en fonction là on a tous les éléments qu'on ressent les émotions des autres on a tous les éléments pour rendre conscience de voilà ce qu'on a fait voilà comment ça aurait pu être comment c'est que in quel momento si è un autogiudizio che uno fa della sua propria vita perché uno ha la visione molto chiara oggettiva di quello che realmente ha fatto ha subire o ha subito direttamente quindi si è uno questo questa visione molto chiara che uno non ha durante la sua vita abituale e la domanda chiude con questa cosa non è forse in questo momento che c'è la strutturazione la costruzione del famoso karma e la question che è posée se termina avec cette frase che dice est ce n'est pas alors a ce moment précis que pourrait se situer la definition du karma c'è dire de ce qu'il faudra recommencer à vivre dans une vie successive pour compenser les erreurs de cette vie présente alors ça je m'avancerai pas là dessus parce que si les expériences aux frontières de la mort nous donnent les premières minutes qui se passent juste au moment du passage et après on ne sait pas comment ça se passe voilà personnellement je crois dans non voglio anticipare lanciarmi en un modo non corretto non sicuro a dare una risposta su questo perché quello che sappiamo è fino lì poi che cosa succede dopo che potrebbe quindi spiegare il karma e la reincarnazione questo io non posso dare una risposta perché quello si passa in un altro livello ce qu'on sait c'è cet auto jugement en ressentant les emotions des autres et qu'on devra répondre a priori a trois questions puisqu'il y a plusieurs esperanciers qui ont eu ces trois questions quello che sappiamo è che c'è questo film della propria vita con le emozioni che sono risentito sia le nostre che quello che abbiamo fatto sentire ad altri poi la cosa importante tutti quello che in francese usa una parola che non esiste in italiano che dice experienci sono le persone che hanno vissuto quell'esperienza si esperienzatori potessimo creare una nuova parola quindi queste persone che hanno vissuto questo dicono che ci sono però sempre le stesse domande a cui ognuno di noi deve rispondere le question sono come ti sei amato a te stesso come ti sei rispettato è la prima domanda la seconda domanda è come tu hai amato gli altri i tuoi cari e le persone che hai incontrato nella tua vita e la terza domanda è che cosa hai fatto tu per la vita per l'amore incondizionato in genere queste sono le tre domande che sempre tutti quelli che hanno vissuto un'esperienza di mda riferiscono e a priori tu sarei una question di capacità d'amore finalmente sarei là per apprendere e sviluppare questa capacità d'amore incondizionale e quindi potremmo arrivare a una conclusione di dire che nel fondo tutto si riassume a questo noi siamo qui per amare e per imparare ad amare quindi è la nostra capacità di amare che verrebbe quindi valutata e la presa di coscienza di quello che abbiamo fatto che siamo capaci di fare ed è anche la conclusione di Raymond Moody in tutti i suoi studi e che la prima cosa che le persone che sono rianimati e che tornano in vita dicono noi siamo qui su questa terra per imparare ad amare e infatti se posso permettermi dalle esperienze che abbiamo avuto anche noi dei nostri congressi ma anche dei testimoni che abbiamo incontrato è proprio che tutti cambiano lo stile di vita e io vorrei aggiungere dice Laura che dalle esperienze che noi abbiamo avuto in tutti i convegni i congressi che abbiamo organizzato e aver sentito anche le testimonianze di tante persone che tutti arrivano alla stessa conclusione e quindi cambiano il loro modo di vivere che quando tornano in vita dopo essere reanimati ah perdono che quando l'experienza è che quando loro vengono in vita che hanno reanimati a questo momento là tutti changano la façon di vivere radicalmente effettivamente è così è quello che succede quindi è questo amore inconditionato probabilmente la chiave di svolta è questo che questo amore inconditionale è la clé di voce che vorrei rappelare di nostri existenze a priori è quello che ci insegnano vuol dire amare non soltanto noi stessi gli altri ma anche l'amore e il rispetto della natura degli animali del creato degli animali di tutto quello che vive di tutto quello che c'è ci sono alcune scritte in francese buonasera del belgio che ci stanno seguendo buonasera la nostra concezione si può allargare un po' si ok ok adesso pari ribattano così allora Nadine le jeune ok Nadine le jeune domanda notre conception della mort è totalmente errone la mort n'è pas ce que l'on nous dit un emi ainsi qu'une autre expérience monte ouverte alla persistance de l'âme e au fait que la conscience demeure elle aussi vivante allora devo tradurla in italiano si però non si può girare devo attivare allora Nadine le jeune dice il nostro concetto della morte è totalmente sbagliato la morte non è quello che ci dice un emi così come un'altra esperienza che ho vissuto mi hanno aperta alla persistenza la coscienza della persistenza dell'anima la continuazione della vita dell'anima e al fatto che la coscienza rimane anche essa viva poi ci sono altri messaggi questo è di Nadine mentre invece ce n'è un altro però non riusciamo ad entrare nelle funzioni di ribaltamento c'è un debat la tecnologia c'è un debat la science materialista actuelle che dice qu'il n'y ha que la matière alla morte della matriera e la scienza e la scienza post materialista che dice che la conscienza è capa di esistere in dehors della matriera c'è quel debattito estremamente importante su cui ci confrontiamo tra il vecchio concetto della scienza materialista che dice che nel fondo noi siamo soltanto materia siamo un robot meccanico organico con delle funzioni biochimiche che quindi nel momento in cui finisce la vita quindi si spegne il tutto e quindi il piccolo robot non ha più esistenza invece la scienza post materialista che è quello su cui stiamo lavorando tutti noi e che è il famoso manifesto di Mario Borga dice che giustamente non è assolutamente la coscienza non è integrato dentro la scatola del nostro cervello però è libera ed è quindi prosegue la sua esistenza anche dopo la morte fisica c'è un'altra question buonsoir Amanda io prendo l'emission in cura dopo aver luo il libro di Michael Newton souvenir dell'au delà on è obbligé di si posare la question dell'après allora lo traduco dice buonasera Amanda questo è Sui là che è una scrittrice Sui là dice buonasera Amanda io prendo la trasmissione in cammino e dopo aver letto il libro di Michael Newton ricordi dell'al di là siamo obligati a porti la domanda di quello che succede dopo è ce qu'on pourrait par exemple aussi je pensais a notre amie Constance qui justement présenté dans ton film en tant que médecin elle témoigne puisque c'est un médecin spécialisé en soins palliatifs et elle témoigne justement de ces contacts qu'il y a avec les personnes qui sont au moment de mourir et qui ont devant elle qui commencent à voir des personnes de leur propre famille ou amitié qui viennent les aider qui viennent les communiquer avec elles et très souvent jusqu'à présent on pensait que c'était des hallucinations pré-mortes juste avant la mort de personnes qui perdaient bien sûr un petit peu il n'y plus d'irrigation cérébrale et on pensait que c'était un moment où les gens avaient été victimes d'allucinations ou bien à cause des médicaments et l'on parle le témoigne potremmo forse adesso parlare de un e presentare poi un estratto che è interessante di un medico che è specializzato in cure palliative e che accompagna delle persone e che riferisce di questi contatti di queste visioni che hanno delle persone che stanno morendo quindi le ultimi istanti e che cominciano a vedere a entrare in relazione con delle della loro cerca di conoscenza e questo poter sa qu'est che tu pensi valeri ce tu veux qu'on présente cet extrait de absolument j'allais te proposer parce que pour moi c'est une des je parle de ce phénomène dans le film parce que mon père et ma grand mère qui est un an ont tous les deux eu ces visions allora giustamente dice io volevo porti volevo giustamente porti di parlare e di passare questo pezzo spezzone perché giustamente mio padre e mia nonna che è morta molto prima hanno avuto tutti e due le stesse tipo di manifestazione e mio padre come aveva detto prima era una persona tea ok allora andiamo a vedere questo contributo eccolo qua ok perfetto vediamo il contributo video c'è un phénomène très courant c'è que des des personnes tout à fait en fin de vie ont des visions de leurs proches décédés auparavant ou de personnes chères qui leur sont chères décédées avant elles venaient à eux pour les rassurer les accompagner les aider les accueillir in quanto medico di cure palliative osservo frequentemente questo fenomeno le persone che stanno per morire hanno delle visioni dei loro cari già deceduti vengono da loro per aiutarli per rassicurarli accompagnarli e accoglierli bene era un corto estratto che permetteva giustamente questo medico che spiega quello che le riferiscono le persone e ne parla anche tra l'altro in due suoi libri su questo argomento dove lei racconta come medico la quantità di persone che hanno vissuto queste stesse situazioni che dice che anche nelle due libri che ha scritto constance che le racconte le témoigno di tutto che l'ha vincu e entendu come medico di so palliative di queste persone che ha rifer di aver visto di aver avuto un contact con le persone decedere che sono venute le cherser e tu dissi di di e di 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 grand m per con constance è un philomano che è che è che è che è che è questo medico Constance Iver dice che questo è un fenomeno per lei nella sua pratica professionale costante permanente che tutte le persone che lei segue a volte le persone non osano dire quello che hanno visto però lei dice la mia esperienza questo è costante permanente e dans mon esperienza ho avuto due scelte e le due hanno avuto e per la grand'amore è molto importante perché non erano morti e perché mi ha parlato di visione in la chamera che mi ha detto se ha questa visione significa che per la famiglia, per gli accompagnanti quando si ha questa visione significa che la persona va partire molto veloce e questo mi ha permesso di sapere che la grand'amore è morta la cosa importante che io ho avuto nella mia cerchia di persone intime molto vicino a me quindi mia nonna per esempio non era non stava morrendo però mia nonna quindi ha avuto delle visioni in camera sua e quando ho saputo di questo ho capito che mia nonna stava per morire quindi tu hai capito che quando lei ti ha parlato di queste visione c'è lì che tu hai capito che la grand'amore all'esta probabilmente morire un po' di tempo dopo, è certo? in tutto caso, mi sono posato la questione, mi sono detto se si lei ha una visione di morano, è se che lei va, cosa significa che lei va morire, allora che lei non era più morante, lei all'estate ancora bene, lei all'estate bene e io parto in vacanza due giorni a e io sono tornata la voce prima del mio partito in vacanza perché lei aveva questa visione allora io stavo partendo in vacanza e lei non stava morendo però come ha avuto questa visione e che io mi ero posto delle domande quindi quando mi sono chiesto se questo voleva dire che stava per morire però non era non stava morendo a priori e quindi ho deciso prima di partire in vacanza di venire a vederla a causa di questa visione e che si è passato quando sei arrivato a la mia nonna è deceduta la stessa sera e questo mi ha permesso di vedere mia nonna prima del suo decesso perché se no non l'avrei visto sarei partito in vacanza e non me ne sarei questo è un commento, una domanda? allora c'è una persona di Vavicat che dice buonso a tutti del grande est della Francia bene, quindi stiamo portando un pochettino di Italia anche da voi in Francia bene, noi portiamo un po' un po' particolare noi portiamo un po' un po' un po' un po' un po' un po' di Italia anche da in Francia in un momento che è un po' speciale in questo momento, quindi in questo momento dove ci vuole anche, secondo noi, proprio l'espressione di dare tanto amore in questo momento dove invece c'è tanta tensione Justement, in questa periodo attuale che noi viviamo, in cui ci sono tantissime tensioni e tantissime paure, è importante che noi puissiamo apportare un po' di amore, un po' di più di amore, in questa società in cui ci troviamo. Abbiamo un'altra domanda, abbiamo un contributo video. Vediamo cosa c'è. C'è domanda? No, in merito è arrivata una domanda che mi sembra sorge spontanea, sorgeva spontanea anche a me, dopo che hanno visto su Facebook gli spezzoni dei suoi film, capire se ci sono delle traduzioni in italiano, se c'è la possibilità di farli anche in italiano. Allora, c'è una domanda che arriva e che sembra più che una evidenza, e che noi siamo tutti posati, e la domanda che ci siamo noi due rinconteri a Parisi, è che dopo aver visto questi film, e anche visto, senza capire molto bene, dice Laura, il film in francese, che tu hai messo gratuitamente in questo momento, a disposizione di tutto il mondo, potrebbe avere questo film in italiano? Per il momento come ho uscito gratuitamente, è chiaro che io non ho nessun ritorno finanziario, e io vorrei che questo film potesse uscire in inglese, in spagnolo, in italiano, in portoghese, dappertutto, perché ci vuole naturalmente un grosso budget per uscire a tradurre tutto il film, e poi dopo a registrare la traduzione, e fare le versione in diverse lingue, quindi sì, la speranza è quella. Però impariamo il francese, se vogliamo assaporare bene il film. Allora, noi devono, noi, apprendere il francese, se noi vogliamo, realemente, comprendere bene il film. O forse ci aiuterete a tradurre questo film. E chi lo sa, magari, non poniamo limiti alla provvidenza. Non mettere limiti alla provvidenza, noi siamo le persone di foie, noi croyiamo nell'impossible. Abbiamo Marina, che ci fa in italiano questa, questa, diciamo, considerazione, o questa testimonianza. sono in contatto con persone in fin di vita che raccontano contatti frequenti con i loro cari, li chiamano a volte avvertimenti, a volte raccontano che nelle visioni dicono ancora no, non è ancora il momento che tu te ne vada. Bene. Allora, un po' di un'altra. Un amico, chi si appena Marina Dadario, è d'ailleurs, io posso dire, è in Luxembourg. Quindi, lei ci si appena di Luxembourg, e lei dice, io sono in contatto con dei persone in fin di vita, che raccontano dei contatti frequenti con i loro cari, che ne vanno se ha azzurro, chi si appena ci si appena di tanti, e magari, in caso di queste visionne, il dice, non, ce n'è ancora il momento. quindi dei contatti che c'è con le persone che sono decedate ma che dicono a la persona che è in fine vita ma che non è ancora il momento questo momento non è ancora arrivato cosa pensa la Reguardo? che pensi che tu pensi di questi contatti che possono exister tra le persone ancora vivante ma che sono ancora in fine vita e i progetti che dicono a la persona in fine vita che non è ancora il momento allora è vero che io ho avuto un'esperienza mia personale con mia nonna e mio padre che sono stato due giorni alla vigilia della morte di queste due persone però è vero che quello che succede nell'altra dimensione non tiene conto dei nostri tempi dei nostri tempi di vita e quindi possono dare quelle informazione quindi non tiene la dimensione del tempo non è la même, bien sûr, in un'altra dimensione che nella nostra quindi le avertissement potrebbero essere interpretate come? allora c'è che la persona comincia, la conscienza comincia a s'ouvrir perché in fin di vita la conscienza comincia a s'élargire c'è ce qu'on appelle la conscienza accrue e quindi comincia ad avere una conscienza che si fa in contatto allora nel momento in cui una persona arriva in fin di vita c'è come una forma di apertura della conscienza la conscienza si amplifica la tua conscienza personale umana si sta amplificando e quindi sta anche comunicando con l'altra dimensione con un'altra forma di coscienza più globale può essere che questa apertura di coscienza si svolga alcune settimane o alcuni mesi prima del decesso reale della persona quello che noi adesso abbiamo capito è che l'anima parte nel momento in cui è pronta a partire ok allora, devo raccontare mon expérience sur ce sujet ma grand-mère, elle est partie au moment come je vous l'ai dit, elle n'était pas du tout mourante quindi mia nonna non era morrente, come ve l'ho detto beh, elle est partie au moment même où mon petit frère a eu un bébé ed è, se n'è andata nel momento preciso in cui mio fratello più giovane ha avuto un bambino è nato il bambino c'est comme si c'était, ça devait se faire à ce moment-là è come se si dovesse avvenire in quel preciso momento la nascita del bambino e la sua partenza e ça c'est le misteri de l'au-delà e questo non, il misteri de l'au-delà finalement, elle a été appelée 48 heures avant puisque ses visions, elle les a eues deux jours avant donc deux jours avant, on savait que finalement enfin, en tout cas là-haut, dans l'au-delà il savait qu'elle devait partir et que ce petit bébé devait arriver à ce moment-là il bambino est né avec un peu d'avance il bambino, la mia nonna non doveva partire ma il bambino è nato con un pochino di anticipo è come se ci fosse stato un accordo nell'au-delà in cui uno doveva partire e l'altro doveva arrivare però è potuto, quindi è partita e sembra dalle ricerche che questo succede, capita anche frequentemente che qualcuno parte al momento in cui qualcun altro arriva e ça c'est le misteri de l'au-delà e poi sono i misteri dell'allienazzo qui beh, ci sono il y a des choses les expériences aux frontières de la mort nous donnent des indications pour le début, pour le départ mais après ce ne sont que des ipoteses l'esperienza, le frontière della morte ci danno dell'indicazione per capire quello che succede fino a quel livello lì poi dopo passare a questo livello noi non abbiamo possibilità di avere di indagare dell'informazione più precisa ah beh avanti Noi sappiamo che per esempio con il lavoro che fanno i medium, personalmente parliamo di medium molto seri, molto riconosciuti, le informazioni che sono verificate è che quando ci trasmettono qualcosa, quello che noi non sappiamo bene, se questa è informazione perché vanno a pescare questa informazione nell'inconscio collettivo, oppure se è qualcosa che li è trasmesso direttamente da qualcuno. Questo non lo sappiamo. Abbiamo una domanda? Sì, abbiamo Giuseppe che proprio appunto stiamo parlando dell'aldilà, quindi queste informazioni che arrivano, ci chiede se ha esperienza che ci siano entità al di là dei terrestri nell'aldilà. Giuseppe Dellin domande, ci sono entità al di là dei entità terrestri nell'au delà? Sì, ci sono entità che appartengono a altre dimensioni che celle della Terra? Mi sembra che nell'au delà ci sono diversi piani vibratori che quindi appartengono al creato dell'universo, non soltanto alla nostra piccola Terra. Ma ce n'è qualcosa sul quale tu lavorasci? Non è qualcosa su cui sta indagando in questo momento. Mi interessa, mi interessa, ma non è oggetto del mio studio attuale. Ci sono alcuni che hanno vissuto e che poi, tornando dopo un NDE, riferiscono di essere stati in altre dimensioni che non corrispondono alla nostra origine della Terra. Però, per un momento, sono ipotesi, non è possibile adentrarsi di più. Ci sono anche i contatti, io penso che ci sarà anche interessante di vedere, tu as recogli dei testi di persone che hanno avuto dei contatti con i loro difunti. e che, tu hai dei testi di testi, tu hai parlato in tuo film, di persone che raccontano durante un certo tempo, non spesifiché se sono 3 giorni e me o più, ma che hanno avuto dei contatti, anche fisici, con le persone decedate, non è? Sì. Vuoi passare l'extrazione? Sì. La presenza di un grand-père, Per esempio, a dei momenti difficili, ho sento una forza, una sensazione di mano posa su l'épaule, di presenza, veramente, di calore, voilà. C'era la mia 2e anno in droit, e c'era proprio prima l'examen, e ho sentito una protezione, sì. Non so se è veramente un signo o che ho interprattato come questo, ma è vero che ho avuto un'impressione di presenza dopo la morte, un po' e poi, ma è vero che non mi ha mai dato dei signi di vita. Abbiamo avuto, in realtà, alcuni fenomeni bizarri, il sèchoire che si allumava tutta sola, la tele che si allumava tutta sola, anche se si allumava tutta sola, anche se si allumava in elettricità. Studi europei e americani mostrano che circa 20% della popolazione ha ricevuto, in un modo o in un altro, il contatto di un proprio caro defunto. La presenza di un nonno, per esempio, durante i momenti difficili, sento una forza, una presenza, la sensazione di una mano sulla spalla, un calore, ecco. Ero alla mia secondo anno di giurisprudenza, era giusto prima di andare all'esame e ho sentito una protezione. Non so realmente se questo era un segno o se sono io che l'ho interpretato così, ma è vero che avevo l'impressione di una presenza dopo la sua morte, però è già da molto tempo che non mi ha più dato segnali. Abbiamo avuto alcuni fenomeni strani, per esempio l'asciugatrice che si accendeva da sola, la televisione anche, soprattutto fenomeni elettrici. Grazie a tutti, grazie a tutti. Per raccontare quello che hanno vissuto. Questa energia, è molto interessante quando studiiamo questi testemoni, perché si percepiscono che questa energia dell'au-delà è capabile di fare delle cose incredibili come di trasferire la materia, di utilizzare i telefoni. Quello che è estremamente interessante quando uno studia questi testemoni è di vedere che nel fondo l'energia che viene dall'au-delà non ha frontiera e può spostare della materia nostra, quindi anche usare delle onde, usare dei telefoni, avere delle comunicazioni fisiche con le persone, spostare delle cose, eccetera. Noi avevamo avuto una testimonianza, tra l'altro, di una infermiera, una nostra cara amica, che lavora in cardiologia e in emodinamica. Noi avevamo avuto un testemoni d'un amico, che è un'infermiera, che lavora in cardiologia. E questa testimonianza l'aveva fatta già a noi, ma poi dopo l'abbiamo portata appunto al cospetto di una regista, Lara Peviani, che ha fatto un bellissimo film. E ho mandato questo film. Perfetto. E c'è questa testimonianza dell'infermiere che in un momento di rianimazione cardiopolmonare ha un cieco. Allora, c'è questa infirmiere, questa infirmiere, lei raconte, e questa è stata poi ripresa in un film, dove io ti avevo envoyato il film, il film, il film, il film, un documentario in italiano, è stato fatto da una cineasta italiana, che si chiama Lara Peviani, e questa infirmiere ha raccontato che, nel cadre di una rianimazione cardiopolmonare, che aveva stato di questa persona, aveva stata fatta su una persona che era aveuglia di nascenza. E il paziente che è stato rianimato, il paziente non vedente dalla nascita, ha riferito le manovre che ha fatto l'infermiera bionda e l'infermiera mora. E il paziente, quindi, che era aveuglia di nascenza, quando il ha stato rianimato in vita, ha rapportato le manovre che avevano stato effettuato su lui, per una infirmiere blonde e una infirmiere brune. E il aveva, il avevo aveuglia di nascenza, il n'aveva alcuna connaissance della nozione delle colori. Voilà, quindi. Amanda, prima che ce ne dimentichiamo, perché piano piano ci stiamo avvicinando all'ora della fine della trasmissione, volevamo ringraziare le persone, gli amici che sono in collegamento, appunto, sulla diretta Facebook. E quindi qui abbiamo un po' di nomi che cito e che salutiamo e ringraziamo per stare con noi. Poi abbiamo, appunto, vabbè, Associazione Art Cure Pagliative, poi abbiamo Silvana Via, abbiamo Amanda Soleil Castello, abbiamo Silvia Capilupi, Morena Bacchi, Maria Pia Ranieri, Isabella Grandi, Stefano Magrotti, Massimo Sidi, Marco De Petris, Roberto De Monte, Alan Chiappa, Katia Matilde, Gloria Ferrari e poi tanti altri che citeremo dopo. Ci sono le persone che seguiremo l'emission e che hanno tutti envoyato un messaggio di felicitazione, eccetera, quindi c'è una parte di queste persone. Io vorrei poterciare sul fenomeno, perché il tempo va, vola, e abbiamo già 10 anni almeno di 10, e il y a il fenomeno di la conscienza, e proprio, abbiamo parlato all'ora di Mario Beauregard, e del famoso manifesto post-matérialista. E poi, io vi ricordo anche che abbiamo anche le pensi molto energetiche di nostro amico il Dr. Jean-Jacques Charbonnier, che si trova in questo momento a Genève, e che va incontrare, che incontrano Silvia Dettiolas, dove noi parliamo anche, perché c'è ancora un extraito con altri scientifiche, che è molto importante. Dunque, volevo dire che il tempo vola, e che quindi dobbiamo provare ad andare avanti, perché ci sono alcuni altri estratti che vorremmo far vedere, e poi vorremmo anche dirvi che abbiamo anche i pensieri energetici del nostro amico il Dr. Jean-Jacques Charbonnier, che si trova attualmente a Ginevra. Che fanno sempre bene. Che si, che si trova attualmente a Ginevra con Silvie Dettiolas e Claude Chalfourier, dove quindi per diversi, per tre giorni vanno a fare di nuovo dei lavori, poi Silvie Dettiolas, la vedremo adesso in uno degli estratti. E allora, come il tempo vola, volevo forse vedere sul discorso sulla coscienza. Io vorrei quindi che l'on puisse poter vedere l'extrazione sulla conscienza, perché là, il y a quand même Stephen Lorreis, justement, di Liège, e Mario Beauregard, che ci presentano quand même una riflessione sulla localizzazione della conscienza, che è un dei fenomeni su cui l'on è in train di lavorare, che è veramente la frontiera tra la vision matérialista e la vision non matérialista. Andiamo con il video allora. C'è anche che il problema è proprio enorme e che quando si parla di la conscienza, veramente, più che l'on studia, e ci ha più di 20 anni con l'equipe, che l'on essaia di avanza in questo domani, più che la ignoranza è claire. Perché la scienza attuale non arriva-tta a explica come le pensi, le pensi, le emocioni, anche il nostro memoria, sono produzione? Alla fine, il cervello è constituato di cellule, che si chiamano di neurone, e di fili che collegano le neurone tra, che si chiamano di axone, quindi la materia grise, la materia blanche. Ma comparare alle cellule dell'organismo, queste cellule non hanno nulla particolare. Quindi, non è arrivato a capire come poterci generare le funzioni mentale e complesse, solo a partire dall'attività di cellule. So anche che il problema è enorme e che quando si parla della coscienza, più la studiamo, ed è da più di 20 anni che con la mia equipe proviamo ad avanzare in questo campo, più si evidenzia la nostra ignoranza. Perché la scienza odierna non riesce a spiegare in che modi i nostri pensieri, emozioni e anche la nostra memoria sono prodotti? Il cervello è costituito da cellule che si chiamano neuroni e da filamenti che collegano i neuroni tra di loro, che si chiamano assoni, quindi la materia grigia e la materia bianca. Paragonati alle altre cellule dell'organismo, non hanno niente di particolare. Quindi non si è tuttora riusciti a spiegare realmente come si possano generare delle funzioni mentali complesse, semplicemente a partire dall'attività di queste cellule. C'è, Valérie, il grand problema della localizzazione o délocalizzazione della coscienza, e quindi è un problema della localizzazione o delocalizzazione della coscienza che è il problema fondamentale su cui noi abbiamo già naturalmente un'idea molto chiara però penso che sia una delle tematiche su cui Valérie ha molto lavorato Valérie c'è un sugetto che mi interpelle perché per me quando Mario Noregar dice che il nostro cervello è incapabile di produrre un pensiero mi pareva così incroyable che ho chiesto la confermazione a Steven Lores allora quando Mario Noregar gli ha detto che il nostro cervello era incapace di produrre un pensiero io sono andato a chiedere conferma a questo scienziato belga che era all'inizio su delle posizioni assolutamente opposte che si chiama Steven Lores che avete visto nella prima parte e io ti propone io non sono una scienziata e io vi propongo di far vedere l'estratto successivo che è quello di Sylvie de Tiolas dove si trova attualmente quindi Jean-Jacques Chabonnier a Genève dove lui e lei con altri hanno un'equipe su cui lavorano giustamente sulla delocalizzazione della coscienza quindi adesso vediamo un'esperienza estremamente affascinante dobbiamo un attimo salutare al volo persone di Genova della Liguria perché ci stanno seguendo da l'entrotele Liguria un nucleo di persone che vi ha delle persone che vi può salire dopo la Liguria salutiamo Francesca e Mauro salutiamo anche Alessia Colombini che invece lei ci segue da Parma e quindi poi ne avremo tanti altri che dovremo ringraziare tantissimi Alla fine Andiamo Andiamo con il contatto I quanti la materia l'energia e la coscienza giovedì alle 20 e 30 su Radio Sound le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati medici e ricercatori una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza l'interazione che guarisce 3 2 1 Allora il cervello come le modelli attuali lo propone e quindi se non è produita dal cervello significa che quando il cervello si resta la coscienza va continuare quindi arriviamo progressivamente a questa idea che la coscienza si resta alla morte del corpo se riusciamo a provare che la coscienza è capace di delocalizzarsi questo dimostrerà che è possibile una certa autonomia in relazione al cervello se ha realmente questa autonomia in relazione al cervello possiamo forci la domanda se è davvero prodotta dal cervello come dicono i modelli attuali perché se non è prodotta dal cervello questo significa che quando il cervello si ferma la coscienza può invece continuare si arriva così progressivamente a questa idea la coscienza sopravvive davvero al cervello abbiamo anche qualche altro commento in francese Amanda questo è tuo personale che gli apparteneva nella stanza dove ero questo è un classico la planta il modo è il modo anche stupefacente perché non è stato progressivo è stato in un giorno in cui la pianta è ripartita su è rifiorita bellissimo Laura abbiamo altre domande abbiamo altri amici da salutare così non ci dimentichiamo prima di chiudere salutiamo Nick Simon Suila Autour Carmine Benintende Nadia Dejoli Daniel Perard Babette Flamè Vivian Wecker Lucia Tagliaferri Lili Serrat Cindy Nicolás abbiamo una bella presenza d'oltre alto io penso sì che noi abbiamo anche due extrai che sono così importanti puisqu'on parla della conscienza c'è celui del Dr. Olivier Chambon e del Pim Van Lommel e poi celui di Charbonnier non toujours sul discorso della conscienza penso che abbiamo in più dopo alcuni due ancora strati so che stiamo arrivando alla fine che faremo fare gli orari supplementari i tecnici i tecnici non hanno problemi con i sindacati non hanno problemi con i sindacati che vivono in l'amore incondizionale e che sono pronti a dare ancora qualche minuto di antenne per che l'on puisse continuer a travailler e quindi ci sono due elementi che sono estratti importanti che sono uno del Dr. Olivier Chambon medico psichiatra che ha anche studiato il shamanismo e poi del Dr. Pim Van Lommel che è un cardiologo di cui avevo parlato io quando abbiamo fatto i congressi sull'NDA e poi dopo l'estrato di Charbonnier naturalmente chiudiamo con Charbonnier non ancora non chiudiamo subito non ma vuoi dire c'era lui a chiudere c'è c'è lui l'estrato di video bene facciamo vedere le video partiamo on fa vedere maintenant la video di Olivier Chambon e di Pim Van Lommel c'è estratto conclusione si chiama ecco la qua tutte le ricerche che avete fatto depuis più di 40 anni sulle le differenze l'expérience périmentale moi j'appelle ça come ça c'est-à-dire le contact con le persone morante avec le defame dans les cherchers accompagnés l'expérience de mort imminente qui contacte le téléphone soit spontané soit induz par des médiums les expériences aussi de vie antérieure qui ont été étudiées par Sillonson et Tucker notamment enfin bref tous les faits convergent vraiment pour valider l'hypothèse sur laquelle la conscience est indépendante du cerveau elle peut se servir de différents corps pour interagir avec la réalité matérielle mais elle n'en a pas besoin le corps a besoin de la conscience la conscience elle a besoin du corps nous devrions finalement considérer la possibilité que la mort comme la naissance puisse n'être que le passage d'un état de conscience à un autre dans un autre quand on on se prendra en considération toutes les recherches qui ont été faites depuis environ 40 ans sur les expériences pour les mortales comme je le chais c'est les contacts avec les défunts qui ont les personnes qui sont mortes les expériences de mortes imminentes de l'éle les expériences avec les défunts spontanés ou indottés grâce à un médium les expériences de vie antérieure qui ont été étudiées toutes ces recherches convergent à valider l'ipotesi que la coscienza est indépendente du cerveau et peut utiliser diverses corps pour interagir avec la réalité maternelle le corps a besoin de la conscience mais la conscience ne a besoin du corps Dovremo infine considerare la possibilità che la morte così come la nascita possano essere soltanto un passaggio da uno stato di coscienza ad un altro Rientriamo in linea abbiamo arrivato un'altra riflessione un'altra testimonianza di Massimiliano Merenda Buonasera in famiglia abbiamo vissuto esperienza di premorte molti anni fa dopo un percorso di anni è ferma la nostra convinzione che la coscienza o attenzione non è vincolata alla mente e questo fatto è sperimentabile anzi consigliabile soprattutto in vita grazie e buonasera d'altra riflessione osservazione da fare rendere consapevolezza quando esce abbiamo come question Ad esempio, lì la signora ha parlato di padre Pio, ma noi abbiamo visto poco fa Silvi De Tiolaschi che parlava della delocalizzazione della coscienza, giustamente questo istituto estremamente importante che fa una ricerca su un giovane uomo che si chiama Nicola Freis. E' questo uomo che di mestiere fa l'infermiera, adesso dico due parole perché so di che cosa si tratta. E quindi lui da anni, e quindi lo studiano, e nel film di Valéry si fa vedere, loro studiano queste delocalizzazioni in quanto vivente, vivo, perché lui è sdraiato con delle apparecchiature e a un determinato momento lui esce dal suo corpo e va fuori e dice, ecco c'è la signora tal che è vestito di rosso che è andata a comprare una torta al cioccolato. oppure va con una persona che ha la stazione di Ginevra e che prende un biglietto per, non so, Lyon o Strasburgo. E quindi, e lui poi è lì, è lì, è vivo e sta sotto controllo di questa apparecchiatura. E quindi questo per rispondere. Io ho raccontato un po' l'expérience di Nicola che io conosco bene, l'expérience che aveva fatto di dire che era la dame che era la scuola di la bologna e che era in fronte a un gato al chocolate, o anche un giornalista che era a la gare di Genève e che era in fronte a un bigliet di train per, non so, Fribourg o ailleurs. e lui, il était toujours là, bien sûr, avec tutti gli apparelli che controllano il battement cardiaque, eccetera. Voilà, donc c'è delle esperienze en vie où l'on verifie la délocalisation de la conscience. On peut peut-être voir l'extrait de Charbonnier, l'extrait de Charbonnier. Abbiamo, intanto che Max si prepara, abbiamo forse con Charbonnier, abbiamo forse una domanda. No, abbiamo una considerazione, appunto parlando, no, non ce l'abbiamo più. Non ce l'abbiamo più? Non doveva andare, allora andiamo con il dottor Jean-Jacques Charbonnier. Eccolo qua. On peut regretter d'emblée toutes les preuves, parce que ce sont des témoignages, et que les témoignages sont fragiles, on le sait, les témoignages humains sont fragiles. Mais à moins de considérer que toutes les personnes qui témoignent sont des affabulateurs, eh bien, oui, il y a une foule de preuves de vie après la mort, il y a une foule de certitude pour dire qu'il y a une vie après la mort. Naturalmente è possibile rigettare tutte queste prove perché sono delle testimonianze. E le testimonianze per definizione sono fragili, lo sappiamo. Ma salvo considerare tutte le persone che testimoniano come degli affabulatori, eh bien, si, abbiamo una quantità di prove che esiste una vita dopo la morte, una quantità di certezze che dimostrano che c'è una vita dopo la morte. Bene, siamo quasi in direttura d'arrivo, Amanda Alberto. Cosa possiamo dire a Valérie ancora? Cosa Valérie può dire ancora a noi per andare in chiusura? On è in train d'arrivo quand même vers la fin della trasmission, puisqu'il è già 10 ore, presque 10 ore 15, e che non dov'è normalmente s'arrattare a 10 ore. Quelle sono, potete, o le cose che, ici, on pourrait, potete, le question che l'on pourrait te poser, o bien, è-ce che tu as, tu as, des questions, o è-ce che tu as, des suggestions, o des réflexioni che tu voudrais fare? Io ho una domanda... Ah, pardon. Dottor, allez-y, allez-y, deve venire qui. Ma la domanda, visto che abbiamo parlato di, della coscienza che poi si deve rapportare con i nostri simili, ma con tutto il creato, quindi con la natura, con gli animali, la domanda che mi piaceva fare era quella, se i nostri, diciamo, amici che vivono queste esperienze hanno incontrato anche degli animali, magari i propri animali, trapassati prima, insomma. Questa è una bella domanda, insomma, che a volte ci viene posta, viene posta anche a noi nei nostri congressi. Allora, la question qu'il pose, c'est, puisqu'on parle de conscience, e, puisqu'on parle del respect e dell'amore che bisognava dare alla natura, al genere umano, a noi mesi, a la natura, ai animali, eccetera, il demanda, è se che il y a dei elementi, dei preuvi di l'existenza, quindi, di nostri animali, perché c'è un elemento che è molto liato a nostra vita umana, dei animali cheri, che si trovano in l'au-delà, è se che il y a dei elementi su questo tema? Moi, io potrei direi molto, là-dessus. Moi, c'è un po' di ma propria expérience. Florence Hubert, che è in il film, noi l'avamo testato a diverse reprises, e, a ogni volta, c'era un animale che era presente, e, notamment, la seconda volta, c'era il chien, la persona defunta, che ci ha descritto, precisamente. Per esempio, nel film, si vede Florence Hubert, che noi abbiamo controllato, e sperimentato, moltissimo, e, ogni volta, che l'abbiamo intervistata, che abbiamo lavorato con lei, c'era sempre un animale, presente, vicino a lei, e, in particolare, c'era il giorno, il cane, di una persona deceduta, quindi, sia il cane, che la persona erano decedute, e se c'erano dell'altra parte. Questa medium ha detto, che nel caso specifico, ha visto arrivare prima il cane, e poi la persona deceduta, che era legato al cane, e diceva che questo capitava anche, di frequente, che ci fosse prima l'animale, che arrivava, e si manifestava nel campo, di queste esperienze di medianità, e che poi arrivava la persona, che era collegata a quell'animale. E poi, si possono... La donna, perdono. La donna, se capisci, il defunto, è stato con il suo chien. Nel caso specifico, era il cane arrivato, poi è arrivato il defunto, che era qui nel cane della persona deceduta, tutti erano deceduta. Tu avessi però una tua considerazione. Io volevo aggiungere, io lo direi d'abord in francese, è che nelle esperienze di TCH, che sviluppe il nostro amico, il dottor Charbonnier, ci sono quantità di persone, che esperimenti questa tecnica di TCH, e che si ritrovano con il suo animale. E quale che sia l'anima, il y a dei chiens, il y a dei chats, il y a dei chevoli, il y a dei hamster, il y a dei perroquets, che sono i animali favori che la persona ha. E in tutti i TCH, quando ci sono filmati, vediamo la persona che è in età di hypnose profonda e che è in train d'embrasser l'anima. E l'anima, e le sent, e tu senti physiquement le sensazione. Quindi gli animali, si continuano e persuivano la vita di l'altro canale. La dernière fois, io ho fatto due séance di TCH, e la seconda séance, una di mie amici è stata con me, e lei ha avuto il contatto di un chien che aveva incrasato, che aveva tue in voiture il y a 30 anni. E per lei, c'era un drame a l'epoca. E in TCH, il chien lui ha dato il suo perdono. E per lei, c'era un momento extrêmement forte. Io ho vissuto due esperienze con il dottore Chabonier di TCH, e in una di queste ero con una mia amica. e questa amica, durante queste esperienze di TCH, TCH, lei ha visto un cane, e questo cane era un cane che lei aveva in macchina, aveva, come si dice in italiano, schiacciato, investito, investito, aveva investito questo cane 30 anni fa. E lì era sempre rimasto questo dolore, questo dispiacere profondo. e ha visto questo cane che lei aveva quindi investito 30 anni prima e il cane gli aveva, gli ha dato il suo perdono. E per lei, dice Valeria, è stata un'esperienza assolutamente molto toccante, molto forte. Bello. abbiamo qualche altro messaggio, abbiamo Amanda Soleil che ci ringrazia appunto per la qualità delle nostre trasmissioni, per i nostri relatori, sia italiani che francesi, che abbiamo sempre. Poi abbiamo da salutare Elisa Pollini, Maria Gloria Fontana, che sono in linea e ci hanno messo tanti mi piace, quindi grazie. Grazie. Il y a delle quantità di messaggi di tutti i tipi che si complimenti su la qualità della trasmission di questa emission di questo giorno, su l'importanza di questa ricerca che noi portiamo al pubblico, al grand pubblico. E allora, io volevo dire che, quindi, ci che abbiamo deciso questo giorno, a l'emission, c'è di montare anche alcuni libri, e il sarà, quindi, ci saranno i titoli, e poi tu vas mettere le pollo e passare. Allora, vi mostri molto brevemente, malvite, il y a dei libri che non sono di tutto traduiti in italiano, allora, justement, il y a celui-là che ha parlato del libro di Michael Newton che si chiama il mio souvenir di l'au-delà, che è un libro extremamente interessante. Il y a, bien sûr, il libro di Mario Beauregard, qui si chiama Un salto quantico della coscienza per liberarsi infine dell'ideologia materialista, questo è un libro di Mario Beauregard, abbiamo anche un altro di Mario Beauregard che si chiama Dal cervello a Dio, e questo, purtroppo, non sono tradotti. Abbiamo i due libri della dottoressa Constance Ivere L'Homme che abbiamo visto durante il film, durante queste strade, il primo si chiama Addomesticare l'ultimo soffio, sguardo di un medico in cure palliative, e l'altro che si chiama Al di là dell'ultimo soffio, comunque troverete tutti questi titoli, c'è anche quello del dottor Olivier Chambon che si chiama Osare parlare della morte ai bambini, un approccio scientifico e spirituale, poi allora infine due libri in italiano estremamente importanti, uno del Cesare Boni, medico-psichiatra che purtroppo è deceduto già da diversi anni che si chiama Dove va l'anima dopo la morte? Questo è in italiano, un libro estremamente interessante, un altro libro che aveva scritto con la chicca campanella, Vado e torno che è la storia di un ragazzo che ha vissuto quindi un'esperienza e che poi è tornato in vita, poi abbiamo i libri del nostro amico Charbonnier, allora, per fortuna questo tradotto in italiano L'amour expliqué aux enfants che si chiama La morte spiegata ai bambini e questo perlomeno esiste in italiano e poi abbiamo invece due libri di Charbonnier che non sono tradotto purtroppo, uno è La coscienza intuitive straneuronale che è veramente per capire la ricerca dell'autor Charbonnier su questi due aspetti della coscienza assolutamente affascinante noi l'anno scorso abbiamo fatto un convegno scientifico qui in Italia con lui e poi chiaramente quello che sono già il primo libro le 1500 casi di TCH che permetto quindi di constatare come è possibile contattare i defunti tramite l'ipnosi poi allora ce n'è uno del dottor Charbonnier che è tradotto da pochi mesi che si chiama sette ragioni di credere nell'aldilà che è perdon che è questo qua sette buone raisons di qua non lo delà e questo qua e non ve l'ho portato perché l'ho ordenato per i miei regali di Natale quindi non c'è in italiano ma non ve l'ho portato perché è già impacchettato per offrirlo poi per concludere questa carrellata abbiamo una illustra e sconosciuta tal Amanda Castello che ha fatto due bellissimi libri ci sono anche due due miei libri questo non è tradotto in italiano che si chiama quindi Le Voyage Iniziatique d'Elena il viaggio iniziatico di Elena che è un grosso libro ma non è tradotto in italiano e invece quello che è destinato ai ragazzi che si chiama Padì è l'avventura della vita che questo è un bel libro anche per affrire per i ragazzi per Natale ecco allora questa è la piccola biblioteca che mettiamo a disposizione che suggeriamo e naturalmente il libro di Valérie che speriamo un giorno e speriamo che un giorno sia tradotto e il libro di Valérie che noi speriamo un giorno che può essere tradotto in italiano perché non è solo tradotto ma di trovare una misura d'edizione vorrei che il suo editor francese si interesse a cercare un contatto con un collega italiano allora c'è ancora una risposta una piccola testimonianza ah voilà Monique Mons dice oui Nikita la scena di mio figlio si è manifestata a proposito Florence Hubert durante una soirée all'associazione Sources de Vie Toulouse Nikita la cagna di mio figlio si è manifestata con Florence Hubert di cui parlava giustamente Valérie durante una serata all'associazione Fonte di Vita Toulouse molto bello allora Amanda abbiamo veramente fatto un escursus incredibile ancora una volta con gli amici francesi e ringraziamo veramente Valérie ma adesso dobbiamo arrivare al nuovo lavoro in cantiere di Valérie con questo bellissimo trailer allora bien sûr noi abbiamo fatto un grande voyage con Valérie nella conscienza au delà delle limites del tempo e dell'espace ma noi adesso presentiamo la dernière bande annonc che è molto corta che è quella che abbiamo attualmente del film sull'am e per rappelare che il tito del film è e se l'am exista quindi una cosa che adesso presenteremo rapidamente è lo spezzone quindi il trailer del film sull'anima allora ricordatevi che il primo film si chiama E se la morte non esistesse e questo film si chiama E se l'anima esistesse punto di domanda e vediamo adesso lo spezzone eccolo qua il trailer è più di connettersi a quello che si è realmente e tornare a casa, per me è sicuramente senza alcun dubbio la più bella, la più alta, la più forte, la più importante esperienza che un essere umano possa fare, cioè essere in contatto con il proprio spirito e più che il proprio spirito con lo spirito della vita che è in lui, se riconosciamo che siamo tutti collegati e che una parte di noi stessi appartiene a qualcosa di molto più grande, più vasto, questo ci mette in una posizione di potenza nel buon senso del termine e ci permette di realizzare delle azioni molto più belle, molto più luminose. Bien Valérie, siamo arrivati a la fine. Ecco Valérie, se l'abbiamo. Bon Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Io ho voglia di dirvi un grandissimo grazie per quello che è stato possibile fare. E' chiaro che io ho questo sogno, vorrei riuscire a fare questo film in italiano e non soltanto questo ma anche gli altri perché è certo che queste tematiche sono tematiche che interessano e riguardano tutti noi. Grazie. Comunicazioni dalla regia, sono stati pubblicati su Facebook tutte le copertine dei libri che ha consigliato Amanda, quasi tutte, piano piano le stiamo caricando tutte. Quindi se volete avere poi notizie, seguite la pagina. La regia Mirko è in fronte di comunicare che ha praticamente misato tutte le copertine dei libri che che ho suggerito questo giorno per la fine della nostra emission e che quindi le persone che sono interessate possono vedere direttamente su Facebook di Radio Sound tutte le copertine di questi libri che hanno stato mentionnato e se vogliono approfondire le questioni, beh, possono naturalmente procurare questi libri, questi in francese e in italiano. Quindi per quelli… beh non, tu l'hai già detto. Beh, per… stiamo qua, Alberto, Amanda, dalla regia stiamo quasi arrivando in chiusura, quindi un grazie anche da parte nostra, Valérie, grazie, grazie. Un gran 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 merci a Valérie, da notre part a tutti, da notre part ici, da noi, da noi trois, da la part di Mirko, da la part di Max, che è in fronte, che è dalla regia video e voilà, e da Rita, che è la directrice di Radio Sound, che non può essere là questo soir. Voilà, dunque un gran gran merci, perché c'è davvero un buon lavoro che noi abbiamo fatto insieme. Ricordiamo che quello che avete visto e sentito stasera è tutto stato registrato, per cui sul sito di Radio Sound 95 e Piacenza 24, sul sito di Spazio Tesla e sul tuo canale ritroverete sicuramente tutto quello che non avete potuto magari vedere questa sera. ho cui vuole te re senti. ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. E speriamo di riuscire a tradurre in italiano qualcuno dei suoi film. Sì, sarebbe una grande cosa. E noi stiamo lavorando duramente, e proviamo a mettere su piedi questa traduzione del tuo film. In ogni caso, già inizia con quello che avevo parlato. E noi proviamo a vedere con loro e con altre persone, con altri amici, come possiamo arrivare a traduire questo film. Quindi possiamo salutare Valéry? Quindi, possiamo salutare Valéry? Valéry! Au revoir, buon giorno! E un saluto alla Francia! Un saluto alla Francia, sì. Bene, quindi siamo arrivati in dirittura, ok? Quindi, It From Bit vi saluta, Laura, Amanda, Alberto, Max, Mirko, Rita, che virtualmente è sicuramente con noi. L'appuntamento? Vi diciamo che è l'ultima puntata del 2018, quindi un grande augurio a tutti di un buon fine anno, possiamo dirlo, anche se è un po' in anticipo. Però, però, lo diciamo. Però, lo diciamo e comunque vi rilanciamo un appuntamento per il 2019, che ora non abbiamo ancora in scaletta una programmazione specifica della serata, ma sicuramente dopo il 6 di gennaio, il primo giovedì utile, ci troveremo qui sulle frequenze di Radiosound per It From Bit. È probabilmente che... Giovedì 17, ha detto. Giovedì 17, può essere, può essere. Allora, traduis un po', traduis un po', traduis un po'. Giovedì. Allora, Valéry non è più là? Non, Valéry non è più l'onda? L'abbiamo salutata? Si, si, l'abbiamo salutata. Ah, bon, allora, ma senza faria, il y a quand même tous ceux qui nous écoutent en France, di lingua francese, quindi noi profitiamo di questa occasione ora per salire tutto il mondo, per ringerciare il vostro attenzione e il vostro attenzione e il vostro attenzione. Per rappelare che questa emission riprenda, è la ultima di questa l'anno 2018 e che la prossima sarà il giorno di 17 settembre, e che l'on vi comuniquera, ovviamente, le tema, ma i suoi ci sono sempre sulla fisica quantica e le ricerche che noi sviluppiamo. e, profitando, dice Laura, di questa fine dell'anno che è arrivata e che non finisce molto bene, eh bien, vi souhaitando una buona fine dell'anno 2018 e, come dicevano con Valéry, pieno di amore, se è possibile, di vero amore, e cercare di semere delle graine di positività, di paia, di salute, di prosperità, di calma. Possiamo dire che le attività di Spazio Tesla proseguono comunque domani l'altro con un congresso qua, a Piacenza, su Majorana. Il calendrier, per chi è interessato, Spazio Tesla organizza un congresso a Piacenza, su Majorana. Ettore Majorana. Ettore Majorana, samedi prossimo, quindi in due giorni, tutta la giornata, tutta la giornata, tutta la giornata al centro congresso Galileo. E possiamo anche dire un primo appuntamento del 26 di gennaio. E le 26 janvier, il y aura un rendez-vous con donne che hanno scelto di essere. E che ha come thème le femmes che hanno choisi d'être. A breve poi avrete ulteriori informazioni. E noi vi donnerò delle informazioni, saluti e grazie a tutti da It From Beat. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Au revoir. It From Beat. I quanti, la materia, l'energia e la coscienza. Giovedì alle 20.30 su Radio Sound. Le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati, medici e ricercatori. Una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza, l'interazione che guarisce. Esultare per un gol.